dal libro del profeta zaccaria la parola del signore degli eserciti fu rivolta in questi termini così dice il signore degli eserciti sono molto geloso di sion un grande ardore mi fiamma per lei così dice il signore tornerò a sion e dimorerò a gerusalemme gerusalemme sarà chiamata città fedele e il monte del signore degli eserciti monte santo così dice il signore degli eserciti vecchie vecchie siederanno ancora nelle piazze di gerusalemme ognuno con il bastone in mano per la loro longevità le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle che giocheranno sulle piazze così dice il signore degli eserciti se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni sarà forse impossibile anche ai miei occhi oracolo del signore degli eserciti così dice il signore degli eserciti ecco io salvo il mio popolo dall'oriente e dall'occidente li ricondurrò ad abitare a gerusalemme saranno il mio popolo e io sarò il loro dio nella fedeltà e nella giustizia si raduneranno i popoli per servire il signore le genti temeranno il nome del signore e tutti i re della terra la tua gloria quando il signore va ricostruito sion e sarà apparso in tutto il suo splendore egli si volge la preghiera dei derelitti non disprezza la loro preghiera si raduneranno i popoli per servire il signore questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al signore il signore si è affacciato dall'alto del suo santuario dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero per liberare i condannati a morte si raduneranno i popoli per servire il signore i figli dei tuoi servi avranno una dimora la loro stirpe vivrà sicura la tua presenza perché si proclama in sion il nome del signore e la sua loda in gerusalemme quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il signore si raduneranno i popoli per servire il signore dal Vangelo secondo Luca in quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande allora Gesù conoscendo il pensiero del loro cuore prese un bambino se lo mise vicino e disse loro chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato chi infatti è il più piccolo fra tutti voi questo è grande Giovanni prese la parola dicendo maestro abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segui insieme con noi ma Gesù gli rispose non lo impedite perché chi non è contro di voi è per voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti